e personale, poi ci sarà sempre il vostro giudizio, è sicuramente una scuola all'avanguardia, bella, spaziosa, luminosa, vivibile. Quelle scuole di cui tutti i ragazzi avrebbero bisogno. Siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo con fatica e con dispendio di energie. Invito qui accanto a me il sindaco Tonia Piccioni. I cittadini fanno l'ex sindaco.